Ciao a tutti e benvenuti alla sezione tutorial del sito siftios.it In questo tutorial che divideremo in due parti andremo a vedere come installare librerie di terze parti perché chi ha seguito come ha seguito il corso base sia di Swift e iOS ho sempre detto che il codice deve essere il più semplice possibile snello ma soprattutto riutilizzabile grazie al sistema che vedremo oggi avremo la possibilità senza dover riscrivere ogni volta un codice utilizzare codice messo a disposizione da altri programmatori attraverso una grande community in questa prima parte vedremo come installare tramite terminale il codice che poi ci permetterà tramite semplici istruzioni di installare le librerie in automatico all'interno del nostro progetto e poi utilizzarlo come vedete già ho aperto la pagina e questo sistema appunto si chiama cocoapods che ci permette appunto come detto di installare queste librerie quindi adesso vi faccio vedere il sito di riferimento quindi è www.cocoapods.org e qui vedete vi spiega tutta la procedura per l'installazione tramite terminale vedete e in dettaglio vi spiega tutti i passaggi che dovete fare come creare un pod, come iniziare, come installare adesso noi installeremo come detto questo programma e lo dice lo stesso lui quindi dobbiamo andare intanto apriamo il terminale vedete entrate nel vostro terminale nella root e inserite la seguente istruzione appunto sudo possiamo copiarlo qui direttamente dal sito lo scrivono noi manualmente quindi apriamo il terminale lo scriviamo sudo gem install cocoapods clicchiamo invio e vi chiederà la password di root io siccome già l'ho installato salto questo passaggio quindi una volta inserite la vostra password il sistema installerà tutte le varie librerie all'interno del vostro mac e la procedura può durare da qualche minuto massimo 10 a seconda della velocità del vostro computer alla fine tornerà nella root principale e dovete scrivere io adesso esco dovete scrivere pod spazio setup quindi ve lo scrivo qua per non lo scrivo quindi scriverete sodu scusate scriverete pod pod setup inviate sempre nel terminale non qui dove l'ho scritto io e lui finirà di installare il programma una volta terminato una volta terminato abbiamo finito l'installazione vedete pod install proprio la pod e poi metterete ripetiamo pod setup e lui finirà di installare cosa ci permette questo? ci permette di grazie a questa community gtab di implementare all'interno del nostro progetto nel nostro caso gli os ma può essere anche mac o altri linguaggi librerie che programmatori di terze parti mettono a disposizione quindi noi nella barra possiamo cercare qualunque cosa che ci serve per esempio mettiamo menu cerchiamo all'interno della community e vedeteci qui troviamo i vari linguaggi noi ovviamente selezioniamo swift e qui vedete vi appaiono tutte le librerie che trattano di menu in questo elenco vedete sono 100 pagine addirittura vi dice il tipo di linguaggio e diciamo la valutazione questo per esempio viene ordinato per best match all'inizio lo potete mettere anche più stelle e più recenti e selezionarlo vedete qui vi dice l'ultima volta che è stato è stato modificato ma io ho aggiornato quindi magari con le nuove librerie di US ho aggiustato degli errori implementati e da qui poi scegliete vedete facciamo un esempio andiamo su page menu e qui vi spiega potete tramite questo bottone scaricare il progetto quindi vi scaricate un progetto che potete aprire e verificare e poi vi spiega di cosa è composto va bene questo è il progetto che io ho prova e vi fa vedere molte volte vi fa vedere ad esempio vi spiega che cos'è vi fa vedere a volte dipende poi dal programmatore vi mette un'immagine quindi noi potremmo creare tramite questa libreria questo effetto questo menu scorrevole in questo modo qui sta in landscape vedete che fa alcuni esempi in questo caso vedete poi vi dice è variabile vedete con coapods quello che abbiamo installato noi vi da delle istruzioni che vedremo nel prossimo video e vedete vi dice i vari passaggi per installarlo perché alla fine è una libreria e vi dà le istruzioni per per implementarlo vedi vi dice di aggiungere questa proprietà sia Swift che Object se sì vi dice vedete vi fa un esempio di creare un array e vi dà vedete tutte le istruzioni per implementare questa libreria le varie proprietà e una volta installato senza scrivere una rica di codice ma solo implementando richiamando questa libreria potete creare un effetto molto semplice anzi molto bello da vedere senza aver scritto una rica di codice per crearlo possiamo creare per esempio ios image vediamo un po' cosa esce fuori hanno creato ios image in tutto gdapp vedete mettiamo sempre Swift vediamo questa com'è vedete anche qui sempre potete scaricarla vi dice i file anche quando sono stati aggiornati ed ecco qui vedete l'effetto che potete ottenere tramite questa libreria che vi spiega le istruzioni e come installarlo possiamo andare a vedere quest'altro questa fa una slide show vedete aggiornata vedete release 181 18 giorni fa ed ecco qui l'effetto che potete creare con questa libreria crea una specie di slide in questo modo quindi potete capire che attraverso queste armonie abbiamo a disposizione infinite librerie sotto qualunque aspetto a noi ci serve quindi sotto sulle immagini sul menu su tabelle senza dover scrivere nessuna riga di codice quindi sono dei programmatori che diciamo sante persone hanno creato e messo a disposizione le proprie librerie e tramite appunto CocoaPod e vedremo la procedura proprio con un esempio nel prossimo nel prossimo tutorial come scaricarlo come installarlo nel nostro progetto come implementarlo come addirittura a verificare se ci siano degli aggiornamenti quindi tutto dal nostro progetto senza dover scrivere nessuna riga di codice bene per questo veloce tutorial è tutto se avete domande potete visitare il sito suizio.js.it o commentare questo video se il video vi è stato utile potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial grazie e buona programmazione a tutti grazie 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 a tutti